2-2 tra Milan e Udinese, Milan 2-2, Milan che era riuscito a ribaltare lo 0-1 del primo tempo grazie ai gol di Rebic e di Teo Hernández, ma poi è stato raggiunto ancora da lasagna come un anno fa. La squadra ora viene avanti, è stato un Milan molto deludente nel primo tempo e c'è un fallo di mano fischiato da Pairetto, è stato un Milan molto deludente nel primo tempo ha iniziato a ritmi molto lenti, dopo 6 minuti si è trovato in svantaggio per l'uscita maldestra di Donna Rumma e Strieger Lansen a porta vuota ha realizzato il gol dell'1-0, il Milan non riusciva a reagire e la squadra rossonera, qualche tentativo ma non riusciva mai a impensiare il portiere Musso un primo tempo molto molto deludente per la squadra rossonera che non graffiava nel secondo tempo tutta un'altra cosa, è entrato Rebic al posto dell'insufficiente Buonaventura e subito Rebic servito da una bella azione nata da Leao proseguita con il cross di Conti e la rete di Rebic. Diventava protagonista meritando un voto alto Donna Rumma che era bravo in tre occasioni, attenzione vediamo intanto che viene avanti Ibra viene fermato ancora Rebic, potrebbe tirare, tiro di Rebic Goi, gol, gol, gol All essere stati! Rego, prebic, vuotrono! Rego, perfetto insufficato di Rebic, gol del Milan Stol del Milan, sacro fuoco, Rebic, si, si, Rebic, Rebic, sacro fuoco, Rebic, il gol dei ragazzi, 3-2, vai Milan, tiro in diagonale, che batte il portiere, vai Milan, rivediamo il tiro, nulla da fare, i ragazzi, i ragazzi, 3-2, a 30 secondi dalla fine, i ragazzi, Rebic, migliore in campo, si, ora viene avanti l'udinezione, è finita, i ragazzi vengono una grande partita, Rebic, a 30 secondi dalla fine, poi farò un commento più razionale nel prossimo video, i ragazzi, 3-2, ante, sacro fuoco, Rebic!